La vita frenetica di ogni giorno e lo stress psicofisico possono sbilanciare la nostra alimentazione e farci sentire un po' fiacchi e poco in forma. Numerosi esperti consigliano un approccio innovativo, raccomandando una vita attiva ed un'alimentazione che privilegi frutta, verdura e legumi, ricchi di preziosi nutrienti e fibre. Galbusera nel tempo ha continuato ad innovare, proponendo prodotti sempre in linea con le nuove necessità dell'alimentazione moderna. Galbusera, la salute, buona da mangiare!